Real Crime di Fabio Fabiano Amore acido, seconda parte In questa storia di Real Crime vi stiamo raccontando di un amore acido. Per comprendere meglio questa storia stiamo usando dei post-it che attacchiamo su una bacheca. Il primo che abbiamo utilizzato portava la data del 20 maggio del 2014 e poi un nome Antonio Margarito. Nel secondo abbiamo scritto il nome di una donna, Martina Levato, e abbiamo aggiunto un punto interrogativo. Infatti non siamo riusciti a capire la motivazione che ha spinto la donna il 20 maggio del 2014 a imbastire una trappola per evirare Antonio Margarito. Per fortuna l'uomo riesce a fuggire evitando l'evirazione ma lasciando noi e gli investigatori con tante domande a cui non siamo riusciti a dare una risposta. Riprendiamo un altro post-it dove scriveremo una data e un altro nome. 2 ottobre 2014. Stefano Savi. Si tratta di uno studente incensurato di 25 anni dell'Università Bicocca di Milano. L'orario potrebbe essere un elemento importante? 5.30 del mattino. La località è una zona della periferia nord-oveste di Milano. Quarto Cagnino. Il giovane sta rientrando a casa, dopo aver trascorso un tranquillo sabato sera con gli amici. Subito dopo aver parcheggiato l'auto, scorge un uomo col volto coperto. Non ha neanche il tempo di rendersi conto di ciò che sta accadendo, che l'incappucciato gli getta addosso del liquido. Raggiunge precipitosamente il citofono dell'appartamento, sveglia di soprassalto i due genitori e urla «Brucio! Mi brucia la faccia!». Del liquido bollente gli sta ostionando il volto. L'autore del gesto criminale ha colpito proprio lì. Infatti, il ragazzo era coperto da un pesante giubbotto e l'unica parte del corpo scoperta era proprio il volto. I genitori non ci pensano più di tanto e non vogliono perdere tempo chiamando il numero unico delle emergenze 112. La carne viva del figlio sta friggendo. Salgono in macchina e raggiungono ad alta velocità il pronto soccorso del Fatebene Fratelli, che è il più vicino da casa loro. Ai sanitari le condizioni di Stefano Sadi appaiono subito molto gravi, ma allo stesso tempo i medici rassicurano i genitori, affermando che il figlio non è in pericolo di vita. I sanitari escludono subito che la sostanza gettata sul volto per sfigurarlo fosse acido. In realtà si tratta di olio bollente. Il giovane viene medicato per ustioni di secondo e terzo grado. Per dei trattamenti specialistici viene trasferito all'ospedale di Niguarda, presso il centro ustioni, dove i medici gli danno 21 giorni di prognosi. Nella mattinata, quando riapre il posto di polizia, parte la segnalazione alla questura. Il fascicolo viene assegnato immediatamente al personale della terza sezione della squadra mobile. Si tratta dell'unità che si occupa dei reati contro la persona. Quella che giornalisticamente viene chiamata l'omicidi. Nel pomeriggio i poliziotti ascoltano il racconto dello sfortunato ustionato. Dopo le parole del giovane e le immediate indagini, gli investigatori non riescono a trovare un commovente per l'aggressione, e meno che mai il misterioso aggressore. Riprendiamo un altro post-it e inseriamo una nuova data e un nuovo nome. 15 novembre 2014. Giuliano Carparelli. Il giovane era appena tornato dall'estero. Quel giorno pioveva e prima di uscire di casa, verso le 14.30, il ragazzo prese un ombrello. Nei giorni precedenti l'aggressione, Giuliano venne informato che in Italia lo stava cercando un certo giudice Boselli, che doveva inoltragli una raccomandata di notifica di atti giudiziari. Ecco il racconto sui fatti del 15 novembre di Giuliano Carparelli. Come riportato nel verbale di polizia, citato in sentenza. Nell'uscire dal portone notavo sulla sinistra una donna, con il naso coperto da cerotti bianchi e che, alla mia vista, apriva un contenitore, tipo shaker, di colore giallo fluo, rovesciando il liquido di colore rosso scuro e oleoso alla mia persona. Non riuscendo però a colpirmi, in quanto con prontezza riuscivo a proteggermi con l'ombrello. Fallito l'aguato, la donna si diede alla fuga. Ma Carparelli le corse dietro per chiederle spiegazioni in merito al suo gesto. Riesce a raggiungerla proprio mentre stava per salire sull'automobile. La sua salitrice non si dà per vinta e spruzza verso Giuliano uno spray urticante. Dal nulla spunta alle spalle anche un complice della donna che fa altrettanto. Io, raccontò Giuliano, temendo il peggio e percependo un forte bruciore al collo e alla parte destra del volto, iniziavo a correre cercando riparo. Carparelli riuscì a fotografare con il suo cellulare il numero di targa dell'automobile sulla quale stava salendo la donna. Purtroppo, mentre fugge, il ragazzo cade a terra e perde il telefono, che viene rubato dall'uomo che lo insegue e poi si dà alla fuga. Giuliano però ricorda parzialmente la targa. Per precauzione, nei giorni seguenti, il ragazzo si fece ospitare da un amico e poco dopo lasciò l'Italia. Da quel giorno Giuliano Carparelli inizia una vita infernale. Non riesce a capire chi vuole fargli del male o, peggio ancora, ucciderlo e da quel giorno, ogni notte, dorme a casa di un amico. Da quel giorno esce sempre con un casco in testa. La gente lo ha dita come pazzo. Nuovo post-it, nuova data e nuova vittima. 28 dicembre 2014. Pietro Barbini. Il giovane era reduce da una vacanza in montagna con tutta la sua famiglia. Negli ultimi giorni aveva ricevuto diverse telefonate da un corriere che sosteneva di avere un pacco proveniente da Parigi da consegnargli. Quella sera Pietro doveva andare a ritirarlo in via Giulio Carcano alla periferia sud di Milano e chiese al padre di accompagnarlo. Non era del tutto convinto di quelle strane telefonate. Aveva come una strana sensazione. Saliti in macchina, padre e figlio si avviarono verso l'indirizzo stabilito. Una volta giunti lì, Pietro Barbini scende dall'auto e si reca al numero cirico indicato. Di fronte al citofono cerca l'indirizzo della ditta di spedizione. Intanto il padre parcheggia la macchina. Improvvisamente qualcuno sorprende alle spalle la vittima e gli lancia un liquido che lo colpisce in pieno volto, al torace e agli arti. Il genitore assiste sbigottito alla scena e corre in aiuto al figlio. I due congiunti a quel punto comprendono la situazione e corrono per sfuggire all'agguato. Ma accade qualcosa di imprevisto. Prima di scendere dall'auto, il ragazzo aveva messo in tasca il cellulare e senza rendersene conto avvia la funzione di registratore, catturando l'audio di quei momenti drammatici. Corri papà, non so cosa sia, disse Pietro al padre in un primo istante. Poi, resosi conto di ciò che stava accadendo, urla. Corri papà, è acido! Ciò è evidente dall'audio registrato dal telefono. Non contento, uno degli aggressori di Pietro lo insegue brandendo un martello. A quel punto padre e figlio decidono di affrontare l'uomo e dopo una collutazione riescono a bloccare l'aggressore armato di martello. Sulla linea di soccorso, intanto, è raggiunta una telefonata per una richiesta di soccorso in via Carcano. Prontamente giunge personale della volante, che appena arrivato nota un uomo bloccato a terra con in mano un martello da altre due persone. Una volta identificato, i poliziotti scoprono le generalità dell'aggressore. Si chiama Alexander Boccher. L'aggressore viene ammanettato e accompagnato in questura per essere interrogato. Ha davvero molte cose da raccontare agli inquirenti. Purtroppo, nell'altro aggressore, quello che aveva lanciato l'acido, non c'è più traccia. Pietro viene soccorso e immediatamente condotto presso l'ospedale di Niguarda. Giunge al centro Grandi Ustioni, in gravissime condizioni. Finalmente, in questa storia, grazie al coraggio di un padre e un figlio, gli inquirenti hanno arrestato uno degli autori dell'aggressione con acido. Come vedremo nei prossimi podcast e come leggeremo nei prossimi post-it, la storia è incredibilmente molto più complessa e, purtroppo, anche questa volta il destino è stato feroce e incredibilmente spietato.